Oh sei in diretta! Ah si, buonasera e benvenuti al TG di FPS, siamo qui per una notizia straordinaria, uno scoop, qualcosa che potrà veramente interessare il pubblico palermitano. Siamo qui per parlare di Eleven Sports, beh, vuoi dire cos'altro c'è da dire su questa bellissima e meravigliosa piattaforma che ha permesso a tutti di vedere le partite in maniera perfetta. Non ci sarebbe nulla da dire, ma alcune malelingue veramente insistono nel dire che ci sia stato un disservizio. Noi siamo qui proprio per dire basta con queste elezioni, difendiamo Eleven Sports per la sua meravigliosa ed esemplare dedizione al cliente. Via con servizio! Amici di FPS, siamo in compagnia di Gigi, Gigi è un nome di fantasia, non è il nome reale perché ci ha pregato di non divulgare il suo nome per ovvi motivi di privacy e di sicurezza. Gigi ha delle importanti rivelazioni da farci in merito al disservizio, al cattivo funzionamento di Eleven Sports. Gigi, perché ci hai contattato? Intanto vi ringrazio per aver mantenuto la mia identità nascosta, sapete quando si ha a che fare con questi enti è sempre pericoloso. L'ho contattato per spiegarvi il più possibile perché alcune persone possono e altre non vedere le partite del Palermo. Dici il vero motivo per cui alcuni riescono ed altri invece non riescono. Il vero motivo è che l'impalcatura di Eleven Sports fa schifo, purtroppo. Come quasi tutte le impalcature delle società italiane non sono adeguate a fornire un servizio a così tante persone. E secondo te come possiamo risolvere questa problematica? Purtroppo non dipende dai tifosi ma soltanto dai Eleven Sports. Dovranno sistemare e migliorare i loro strumenti. Tu ci hai fornito anche delle immagini dei presi video dove fai vedere il motivo per cui la qualità delle immagini è quella che sappiamo. e in sottofondo i nostri amici di FPS e tifosi rosa nero la stanno sicuramente vedendo. Questa è la qualità delle partite che riusciamo a vedere. Il tempo è bravissimo, basta lo sforzo economico, quindi si spera che venga risolto il prima possibile. Va bene. Gigi, sei stato un amico di FPS, sei stato gentile e ci hai dato informazioni preziose. Ti ringraziamo.